Cavalca la cresta dell'onda ormai il marina da Reiki Port Village anche questo weekend è trascorso all'insegna del relax e del divertimento registrando un boom di presenze tra diportisti ed ospiti anche se a rubare la scena sono stati sicuramente i mega yacht ormeggiati al molo ribattezzato VIP. Banchina praticamente sold out ieri le immagini parlano da sole a fare bella mostra i tanti mega yacht che hanno potuto godere della perfetta accoglienza del team del marina al gran completo diverse le esigenze di ognuno che l'equip del marina da Reiki ha dovuto soddisfare non sono mancati infatti i VIP che hanno scelto l'approdo salernitano di via allende per le loro vacanze sulle coste salernitane. Venerdì scorso Andrea Bocelli era arrivato con la sua Libertas uno yacht dal design moderno di colore blu metallizzato per poi trasferirsi a Giffoni dove era atteso per il taglio del nastro della 48esima edizione del Giffoni Film Festival. Anche lui aveva scelto le banchine del marina resort a prodo riconosciuto e qualificato per l'accoglienza delle mega imbarcazioni da di porto e tra i più grandi del Mediterraneo. La scorsa settimana ben 10 mega yacht avevano fatto bella mostra di sé in contemporanea al Port Village. L'erogazione di servizi di qualità in un posto strategico poco distante dall'incanto della costiera amalfitana e sorrentina oltre che dal Golfo di Napoli diventa sempre più attrattiva arricchendo l'intero territorio salernitano dall'entroterra al mare. I tanti servizi offerti rendono la tappa presso il marina d'arechi non solo bella e divertente ma anche utile al desbrico di tante importanti operazioni mentre continuano i weekend all'insegna del relax e del divertimento. Dal fitness all'animazione per i più piccoli passando per le serate trascorse accanto al mare degustando una piacevole cena o preferendo un aperitivo live al tramonto allietati dalle note di gruppi musicali locali che rendono più frizzanti le serate in compagnia. Ieri sera ancora una gradevole domenica sera. Noi siamo due salernitano, ci chiamiamo Aritmia Piano Bar e suoniamo qui alla marina d'arechi già da quattro anni e facciamo musica leggera, italiana e internazionale e all'occorrenza jazz, musica d'ambiente, lounge, musica d'ascolto e qui ci troviamo molto bene, è un posto bellissimo, fa autore della musica e un posto con delle potenzialità enormi che ci ha ospitato sin dall'inizio della sua creazione. C'è questa periscena sul mare che noi facciamo ogni domenica sera dalle sette in poi e quindi è un evento voluto fortemente da Fabrizio Gigante e Matteo Rocco che sono i gestori del ristorante e del bar della marina d'arechi e qui si mangia anche molto bene e quindi oltre alla buona musica abbiamo uno chef pazzesco. Questo è un posto magico nel senso che è a Salerno ma sembra di stare altrove, c'è silenzio, pace, un'utenza bellissima, quindi è un posto molto chic, molto ricercato, di nicchia e comunque può entrare pubblico anche esterno specificando che siamo al ristorante quindi vogliono andare al ristorante a sentire musica e che dire, è magia, è pura magia. Grazie a tutti